Direttore sportivo e allenatore, in casa Pescara sono questi i primi tasselli per ricostruire una squadra in grado di lottare per un pronto ritorno in Serie B. Un nome in ascesa nelle ultime ore sembra quello di Giuseppe Manari, che quando giocava e faceva sognare i tifosi di Giulianova e San Benedettese era l'uomo che accarezza la biglia per le sue grandi qualità tecniche. Manari è stato già al Pescara, fu il vice di Franco Lerda nella stagione 2007-2008, anche allora post-retrocessione in Serie C. Una carriera da allenatore trascorsa poi tra Propatria, Como e Prosesto, giovanili della Reggiana, prima di intraprendere nel 2016 una carriera dirigenziale nel Lugano del patron Angelo Renzetti come responsabile dello scouting. Quindi il passaggio al Novara come direttore tecnico, un incarico in via di conclusione dopo il passaggio del pacchetto di maggioranza delle quote a Leonardo Pavanati, a sua volta noto a Pescara per essersi interessato al club Biancazzurro a novembre. Con l'avvento di Pavanati a Novara, Manari lascerà la società piemontese e potrebbe rientrare nei piani del Pescara. Novità potrebbero esserci entro questa settimana. Resta tuttavia anche la candidatura di Sandro Federico, direttore sportivo in scadenza al Teramo. Dal presidente biancorosso Iachini ancora nessun segnale circa un prolungamento. Federico in questi anni ha maturato una discreta esperienza nella categoria, prima di Teramo era stato alla San Benedettese ed il suo lavoro è stato sempre apprezzato dal presidente Daniele Sebastiani. La sua candidatura resta sul tavolo. Perdono decisamente quota le ipotesi Matteassi e Fracchiolla mentre Trinchera è chiuso con la Cremonese. L'orientamento è comunque quello di avvicendare la direzione sportiva. Resta da vedere se almeno uno tra Antonio Bocchetti e Giorgio Repetto possa rimanere nei quadri dirigenziali ma con indirizzo verso scouting o settore giovanile. Dalla scelta del direttore sportivo potrebbe dipendere anche quella dell'allenatore. Allo stato attuale però non si possono escludere le soluzioni interne Gianluca Grassadogna e Pierluigi Iervese. Il primo allenatore ancora in carica si è sempre reso disponibile anche per la prossima stagione a patto di un repulistico in cui azzerare l'attuale organico. Iervese è fresco di trionfo con la primavera e in diverse circostanze ha fatto intendere che se il presidente lo promuovesse in prima squadra sarebbe la realizzazione di un sogno e accetterebbe con entusiasmo. Ma probabilmente ancora presto Pescara è una piazza appetita da tanti allenatori e per sciogliere questi nodi il presidente Sebastiani prenderà ancora diversi giorni prima delle soluzioni definitive.